Se il legno potesse parlare, che cosa direbbe? Il legno racconta una storia millenaria, tramandata di generazione in generazione. Mettere a punto un prototipo è un lavoro che richiede concentrazione, immaginazione, conoscenza. Il legno è vivo come le nostre idee. C'è solo un modo per capire se un lavoro è ben fatto. È quando il pezzo che abbiamo realizzato vorremmo tenerlo solo per noi. Ieri era solo un'idea. E oggi è qualcosa in cui abbiamo messo tutta la nostra esperienza. I nostri sensi ritrovano nel legno un compagno di vita prezioso. Ne osservi le forme, i colori, il profumo. Ed è subito casa. Il legno insegna. E noi, ogni giorno, impariamo ad ascoltarlo.